BECAUSE YOU TOO IT'S WHERE THE BLUE FITS L'anguilla e tutte le cosinette i frutti di mare i frutti di mare che io la posso mangiare che tengo fede che male e l'ampto dei fumetti che non sto male e dopo la grande abbuffata ecco il momento dedicato alla FEF tutti i piani e i piraccini fanno una piccola processione per deporre Gesù bambino nella processione prima le preghiere poi una volta che abbiamo fatto le preghiere prendiamo le preghiere con un bambino piccolo e giriamo per le preghiere gli diamo un bacino e la mettiamo sotto dalla grotta BRODO 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 Ma che pasta si usa? I tortellini? NOOOOOOOOOOOOO prima facciamo le tridd dai guarda alla mamma e chissà che città facciamo le castagniere facciamo tout BU 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 Niente